Non posso che stupirmi ancora a vedere Tuka Tuka con Albertone, la televisione lo manda in onda continuamente, quindi anche se non volessi ricordarlo me lo ricordano gli schermi televisivi perché lo vedo spessissimo. Il Tuka Tuka con Albertone è forse il più famoso ma di duecchi indimenticabili con le star della musica e non solo, Raffaella Carrà ne ha in realtà prodotti a raffica. I più memorabili, quelli che hanno fatto la storia del varietà e del costume italiano, sono adesso raccolti nel cofanetto raffica, balletti e duetti, un DVD e due CD che includono anche alcune versioni inedite. I duetti, i tri, i quartetti sono molto belli perché praticamente c'è un interscambio, Grazie. Grazie.